ed eccomi qua ragazze in una giornata che sembra novembre anche se in realtà siamo a maggio ok rieccomi sono arrivata al lab e appunto dicevo in questa giornata di novembre adesso entro al magazzino e mi preparo per un altro tour de force per far partire i vostri tantissimi ordini eccoci sono arrivata arrivata alla ragazza ieri giornata incredibile perché praticamente quando è arrivato il corriere pioveva di rotto e visto che pacchi erano tantissimi ho riempito tutto il suo camioncino dovevo ovviamente portarli io anche perché lui ha una certa età di conseguenza glieli porto sempre io pacchi e pioveva a dirutto volevo andare dal parrucchiere dopo ho detto anche no perché visto che piove già settimana scorsa ero andata con la pioggia era uscita e pioveva detto questa volta non mi faccio fare fessa e non infatti posso stare a casa ho lavorato a computer ero a pezzi perché a parte il fatto di preparare tutti gli ordini imballarli eccetera eccetera ma proprio la questione di sollevarli visto che fate facendo degli ordini veramente veramente importanti e belli e poi con tutti i regali che inserisco all'interno incredibile vi faccio vedere la maglia avevo fatto uno short che trovate qui su youtube ma adesso ve la faccio vedere dal vivo ed eccola qui ragazze lei è la maglia boss lady di filo man amore io l'amo l'amo perduta mente perché è semplice ma secondo me è super affinata e poi la potete utilizzare sia per uscire sia anche per stare in casa perché no viene appunto con la scritta boss lady con il mio rosa eccolo e appunto poi sotto c'è c'è il logo è una bellissima maglia viene in più tagli voi appunto me la potete indicare nelle note della della spedizione quando fate l'ordine di filo vorrei una s vorrei una m questa per esempio una m rieccomi si era spento dicevo questa per esempio una m eccola qui poi c'è ovviamente la s la l quindi sml xl ho pensato anche alla doppia xl che veramente enorme ragazze quindi appunto super inclusiva veste anche tagli tagli e molto molto grandi ed ecco qui la nostra bellissima maglia boss lady allora ragazze prima che chiudo il pacco ve lo volevo far vedere praticamente questa ragazza ha preso una lì di new york una lì di parigi questa è la maglia boss lady e ovviamente lei ha avuto in regalo la candela perché sapete che ci sono tre promo in corso e con il suo ordine riceveva in regalo la candela potete ricevere anche la tazza ma la maglia c'è in tutti gli ordini adesso ovviamente la candela vado a imballare anche la scatola intorno così che sia tutto più sicuro ed ecco qua il bellissimo ordine per una boss lady in arrivo ed ecco qua c'è stato un contrattempo devo correre in produzione a recuperare un po delle dust bag cioè delle sacche per intendersi queste ve le faccio vedere sono queste piccoline eccole qui le sacche queste con il nastrino rosa filomena amore che servono appunto per riporre le vostre borse per far sì che siano belle conservate che non si rovinano eccetera eccetera e queste borse qui sono cucite a mano e sono made in italy mi sono accorta adesso che ho finito le grandi quindi corro in produzione le vado a recuperare le piccoline ce l'ho ancora quindi questi sono gli imprevisti del mestiere pensavo di stare qui a impacchettare adesso invece corro vado a recuperarle perché ce l'avevo appunto in produzione ritorno e continua a impacchettare e si corre sempre ragazzi ed eccomi qua ragazze che si corre da un lato all'altro non so se mi se mi sentite sicuramente mi vedete male però sono sicura che mi sentite e niente quindi oggi diciamo che mi saltano un po i piani perché avrei dovuto fare altre cose e invece questa cosa delle delle dust bag mi ha un attimo destabilizzato perché in realtà pensavo di essere già andata a ritirarle invece non ero andata ho ritirato le piccole sì e le grandi no lo avrei dovuto fare ieri ma ieri ero veramente a pezzi perché come vi ho detto inizio video ho dovuto veramente impacchettare il mondo tantissimi ordini e il fatto di doverli portare fuori veramente fare tutto da sola non è semplice questa appunto una cosa che io non lo dico per per lamentarmi o altro ma semplicemente perché è un dato di fatto e soprattutto perché sì è bello vedere la parte più divertente più sbrilluccicante no del lavoro però appunto lavoro quindi dietro c'è c'è anche tanta fatica comunque detto questo quindi niente ora io vado a recuperare tutte le dust bag così faccio partire tutti gli ordini oggi e per le ritardatarie vi ricordo ecco anche il telefono ragazzi rieccomi ladies era la sarta era la sarta sto arrivando e io sono contenta perché comunque nel mio piccolo nel mio small business cerco di far lavorare tantissimo le donne quindi è molto molto importante anche questa cosa qua cercare appunto di far lavorare le boss lady come giusto che sia insomma per me è anche comunque una gioia una gioia riuscire a proporre made in italy ragazzi vi ripeto sempre che non è semplice comunque detto questo oggi filomeno amore cosa vorrebbe fare vorrebbe fare anche due cose molto interessanti che riguardano se stessa però chi sape se ci riuscimmo ragazzi o il semaforo è verde ma adesso lui si fermerà con l'arancione quindi noi aspetteremo io parlerò con voi ok ok visto che stiamo fermi vi sollevo un attimo allora le due cose che oggi vorrei riuscire a fare andarmi a fare una piega perché appunto ho bisogno assoluto di farmi uno shampoo e poi vorrei andare ad iscrivermi ragazzi a un corso di pilates però pilates con gli attrezzi quindi non a corpo libero ma proprio con l'attrezzatura perché ho sentito che aiuta molto e per quello che io vorrei ottenere quindi vorrei fare quello e poi abbinare un po di attività aerobica che posso fare tranquillamente da sola quindi vorrei abbinare pilates con un po di attività aerobica vediamo se riesco a farlo allora dasberg recuperate adesso visto che sono nella zona dove praticamente prendo il pane di solito quello che mi piace tanto provo ad andare a prenderlo dopo di che devo scappare al magazzino immediatamente far partire tutti gli ordini e poi vediamo se riesco a fare le altre cose che volevo fare non ci riesco sicuro eccomi qua però magari riesco ad andare in palestra a chiedere per il pilates e ad andarmi a fare uno shampoo ci riusciremo oggi venite con me ragazzi filomena superstar non mi sembra vero preso il pane eccolo lì buonissimo anche una pizzetta lei è la bellissima ragazze di bologna eccola qui è comodissima per la vita di tutti i giorni io la duro profondamente e ripartiamo rieccomi qua nel frattempo è passata più o meno un'oretta io continuo a impacchettare bellezza ora il momento di lei nella bellissima le di parigi questa è appunto le di parigi nero sta partendo insieme alla lilla bellissimo questo abbinamento e io continuo ragazzi tornata a casa già da un po in realtà sono anche da prendere a megan a scuola anche mangiato un pezzo di pizza e sono andata a fare lo shampoo ora domani dormendoci su saranno più belli adesso sono abbastanza poi domani si ammorbidiscono quando ci dormo su sul cuscino che poi stamattina io ho iniziato questo video perché vi ho detto una giornata insieme trascorriamo ma in realtà io stamattina quando ho iniziato il video ero già stata in banca ero già stata in un altro ufficio a fare altre cose burocratiche avevo già accompagnato megan a scuola cioè avevo già fatto tre miliardi di cose e ovviamente lo sapete che la vita di noi donne è sempre pienissima e cerchiamo di organizzarci al meglio ora cosa faccio visto che sono veramente stanca cioè sono due giorni che sono stanca e ovviamente pretendo anche tanto quindi di conseguenza facendo tanto mi stanco ora vado a dare una pulita almeno ai tappeti passo all'aspirapolvere quindi in sala sopra invece ho attivato il robot si sta caricando e lo faccio andare nelle camere e almeno do un'aspirata poi domani devo comunque lavorare perché devo tornare assolutamente in produzione oggi non ce l'ho fatta in tempo e poi vorrei anche vedere se domani fosse aperta la palestra che vi dicevo per andare a fare che poi non è proprio una palestra cioè è una palestra ma è in uno studio di riabilitazione e da persone appunto particolarmente esperte su quel genere di cose lì e magari ci vado domani perché oggi non ce l'ho fatta fuori sembra novembre ragazze quando arriva la primavera l'estate allora ragazzi pausa megan perché vuole lasciamostra questo che devo ancora togliere gli imbrogli megan voleva andare a prendere lo yogurt megan perché ti scrivi sempre sulle mani io non lo so comunque megan voleva andare a prendere lo yogurt ma io gli ho detto di no perché fuori piove tira vento io sono stanchissima ho detto lo yogurt ce l'abbiamo a casa e ma non lo voglio solo così quindi ora creiamo no io ma che ti stai mangiare cioccolato dai megan perché praticamente qui abbiamo ancora un po di cioccolato fondente dell'uovo perché poi il resto è al latte e megan se vuole fare lo yogurt a casa quindi vediamo un po cosa fa buongiorno a tutti ha preso un cucchiaino scusi ha preso un cucchiaino e più cucchiaino questi sono i fruttoli alla fragola che conoscerete tutti potrebbe capitare se durante il video non mangio qualche cosa potrebbe capitare aspetta un attimo prendiamo aspetta prendiamo un foglio che no vedete prendiamo un foglio lino del tuo agliolino dell'abbiamo messa a tavola tra le altre cose mo che fai a facciare poi così poi me lo mangio vabbè megan ci vuole il cucchiaino per svuotare no così fanno casino fanno casino megan ma vuoi visto che fanno casino no ma non è coppa mia ma è la tecnica molta delicatezza stanno tanto devo dire la verità ok questo che io preferirei ne 12 ok apri questa basta post ma apri quest'altro vediamo un po piano piano ok ma io non mi devo tritare il cioccolato allora mentre te fai questo io trito il cioccolato te lo faccio a pezzettini però visti che già da mangiare te ne metto pochissimo vedete allora ragazzi ok vi appoggiamo qua megan si sta mangiando cosa come si dà una ricetta mi serve il cartello ok allora prendiamo un pezzettino cos'altro ci vuoi mettere poi scusami mantella no se ci mette il cioccolato fondente non ci si mette allora vedete che cosa cosa allora mi ecco qua ora trito un pochino ecco qua il cioccolato bene ma non lo mangia prima però allora te di solito quando lo prendiamo in gelateria che ci metti dentro lo yogurt e quello bianco quello semplice ci metti gli smart is poi ci metti dei pezzettini di cioccolato è sì quelle tra le fragole che ci sono mangiati ieri sera quindi non ce ne ho più e poi ci metti la granella di noccio e tu stai a mangiare tutto quanto per forza e poco se te lo mangi tutto quanto prima di finire è il sto mangiato tutto quanto allora mamma ha quasi fatto questo vado a cercare qualcosa una caramella spezzata no ora vedo se c'ho la granella hai detto mi potete mangiare tutto quello che volevo no 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 aspetta mamma che si tenga granella e non ti muoverà allora allora ragazzi questo è il cioccolato che ho tritato vediamo se abbiamo la granella andiamo a vedere un dispensa la granella di nocciola secondo me non ce l'abbiamo aspetta allora secondo me non c'è ragazze allora qui ci sono delle cose per i dolci non faccio più da un sacco di tempo devo ricominciare un tipico tirami su saldo la panna cotta e cioccolato fondente il show bar no mega grazie a questi vediamo cosa sono ok tieni un attimo la macchina fotografica che mamma mette facciamo così vedete vedete guardate 1 2 3 o le guarda che buono non è la prossima cosa da fare amici no e girarlo voglio la spazzatura da qua sopra no così di cari poi letto mangiarlo ma tu stai a mangiare tutto quando primi via io non lo so e ora andiamo a prendere una caramella e la spezziamo la caramella no ma buono che poi c'è anche l'altra barretta ancora a mangiare cioè fai vedere che barretta dove mangiare apriamola tutto questo ragazze perché non sono voluto andare a prenderlo è lì e lì megan è a tavola già devo apparecchiato non sono voluto andare a prendere il succo il succo e lo yogurt si mangia quello che vuoi ultimamente megan si è fissata con queste barrette che sono di kellogg's e che lei ama praticamente ve l'ho fatta vedere uno sguardo alla spesa ragazzi aperte hanno un odore incredibile cioè profumano un sacco di frutti di bosco e di fragola porta un attimo la scatola mamma che la facciamo vedere vi appoggio un attimo che mi sciacquo le mani allora ragazzi guardate qua c'è un casino mi sciacquo un attimino le mani un attimo vi faccio vedere le barrette allora le barrette ragazze sono queste le special che i frutti rossi che megan dice che sono buonissime effettivamente quando apre fa un odore molto forte io volevo capire la base sotto di che cosa era fatta lei dice latte ma è tipo rosa no è cioccolato mi ha detto chiara cioccolato alla fragola vabbè chi sta mangiando lì se no si scuagli che stai facendo stai mettendo la cara no vabbè ha preso le aribo le stagione tutte queste per non gli agilateri rendite conto ma se ti mangi questo questo non te lo dovresti mangiare no mica perché troppo a parte questa qui capirai quanto sono 80 calorie ce l'ha scritto 83 calorie va bene a buona merenda ci sentiamo dopo le caramelle sono scomparse allora facciamo l'assaggio si sente il cioccolato non si sente il cioccolato a sapori si sente bene a sapori a caramella buon appetito signora buon appetito ci saluto i rughini riecco mi amiche allora io mi sono cambiata mi sono messa lei la magnifica maglia boss lady non vedo poi l'ora di indossare in casa si sta caldo insomma quindi l'ho indossata anche perché volevo provare questo completo che ora vi faccio vedere che ho preso qualche giorno fa da primark lo guardavo lo riguardavo l'avevo guardato già due o tre volte e non l'avevo preso anche perché i pantaloni non mi stanno proprio benissimo ora vi faccio vedere un completo bellissimo e alla fine l'ho preso e ho detto perché no perché no riuscirò ad indossarlo il pantaloni mi tira un pochino ma in vista dell'estate di voler iniziare a fare un po' di attività sportiva più che per l'estate proprio perché ci fa stare meglio ho detto io lo prendo lo stesso poi la giacchina mi faceva impazzire comunque ora ve lo faccio vedere è un bellissimo rosa proprio rosa pink bello ed è molto carino fa un po' anni sessanta però mi piace tanto ve lo faccio vedere allora questa è la giacca che in video sembra più stropicciata di quello che è nella realtà nella realtà non è così stropicciata forse perché la macchina fotografica prende tutte le ombre questa è la giacchina che è corta vedete proprio corta sotto viene con lui anche lui sembra più stropicciato di quello che è boh non lo so perché ste luci fanno così ragazze che ha il bottoncino sempre così tutto rifinito ed è molto bello insieme ecco i metodi di filomena per farvi vedere il completo perché dice perché non lo indosso ragazze non ce la posso fare adesso a cambiarmi e il pantalone vi devo dire allora vedete che viene con le penche davanti cioè queste due penche molto carino sembra quasi una gonna però appunto mi devo un attimo asciugare per potermelo mettere però mi piaceva un sacco perché a me piace questo tipo di rosa insomma questo è quasi un fragola e mi piace molto in primavera e in estate e secondo me la maglia Boss Lady sotto ci potrebbe stare anche benissimo comunque sto ricevendo le vostre foto con la maglia indossata state già ricevendo le borse insomma e state proprio indossando e sono contentissima sono contentissima per me è una soddisfazione grande vedervi insomma con questa maglia che ha una storia dietro poi particolare perché dice vabbè è una scritta che sarà mai non è così semplice perché non è semplice disegnare appunto delle borse tutti i miei prodotti figuratevi la maglia che sembra una stupidaggine ma non lo è perché avevo pensato in realtà ad un disegno diverso però io sono così se non sono tranquilla, serena se continuo a pensarci c'è qualcosa che non va io all'ultimo momento ho cancellato tutto o avevo in mente la maglia come la volevo era notte l'ho disegnata di notte la mattina immediatamente ho chiamato in produzione ho detto no la maglia fermate tutto deve essere così eliminate questa bozza deve essere così ma facciamo la bozza no sarà così e infatti è lei non credo di avervelo fatto vedere ma che allucinante le pieghe che fa io vi vorrei far vedere ragazzi vorrei farvi essere qua cioè io vorrei farvi essere qui perché dal vivo non è così stropicciato che cosa assurda vabbè è stropicciato sì ma non così tanto comunque ho preso questo body sempre da Primark un po' di tempo fa vedete viene così e mi piaceva lo scollo con questa arricciatura è molto 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 sottile proprio sottilissimo e secondo me questo qui è carino anche proprio lo vedo bene con un paio di jeans chiari al lavaggio chiaro carino 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 anche con un bel blazer o anche con il giacchetto di jeans perché no secondo me è bellissimo comunque boss ladies ci tenevo a dirvi che sto lavorando ad una nuova serie di video che vedrete a breve appena ho 5 minuti di tempo per dedicarmi appunto di più ai contenuti e questi video sono sicura vi piaceranno tantissimo era tanto tanto tempo che volevo proporveli ma non ho mai avuto appunto poi effettivamente il tempo per farlo non che adesso lo abbia e non è che dice ah filo quindi adesso c'è il tempo per farlo no neanche però ci tengo molto e voglio assolutamente condividerli con voi quindi mi auguro che già dalla prossima settimana io sia in grado di proporvi questi nuovi contenuti e non vedo l'ora appunto di di vedere le vostre reazioni ma soprattutto di condividerli con voi e proprio di avere questo scambio no veramente non vedo l'ora comunque adesso io vorrei mettermi immediatamente all'editing di questo video così vedo se riesco a caricarvelo già stasera altrimenti massimo appunto domani dovreste vederlo mi raccomando continuate a mandarmi le vostre foto i vostri messaggi i vostri commenti qui su youtube su instagram anche via mail sto ricevendo delle bellissime mail appunto di quando ricevete i prodotti proprio oggi una ragazza mi ha scritto che ha preso Lady Miami e che sarà proprio una tappa del suo viaggio di nozze che quindi la porterà con lei cioè io mi sono emozionata ragazza perché comunque sapere che sto con voi questi momenti così importanti a me fa veramente emozionare tra le altre cose questa ragazza ha mandato la foto e indossava la maglia l'aveva abbinata con un paio di jeans l'aveva messa dentro stava benissimo perché comunque è una maglia semplice ma molto molto ricercata nei colori e nel mio font di conseguenza è bellissima proprio anche per creare degli outfit super particolari e la cosa più bella è che la ricevete in regalo vi dico che stanno finendo perché ovviamente tutte le promo sono salvo esaurimento scorte e voi avete tempo fino a lunedì per poterla ricevere il regalo su tutti gli ordini pari o superiore a 25 euro avete la maglia assicurata poi ci sono altri due step dove potete avere la tazza oppure la candela quindi insomma sono contenta perché per il compleanno di Filomen Amore per il suo primo anno bisognava festeggiare alla grandissima lo stiamo facendo insieme ai post lady io non riesco a smettere di guardare la maglia vi farò anche io qualche look carino prossimamente così ve la faccio vedere super abbinata in un outfit niente io detto questo mi metto all'editing del video vi ringrazio per aver trascorso questa giornata con me in realtà c'è ancora la serata però appunto devo editarvi anche il video mi auguro di avervi tenuto compagnia non vedo l'ora di farvi vedere i nuovi contenuti e vi ricordo che fino a lunedì 9 incluso potete approfittare degli sconti sulla nuova collezione Filomen Amore e ricevere tantissimi regali tutti per voi quindi cosa aspettate vi aspetto lì e vi mando un bacio grosso ciao boss ladies peace